Allora Franci, corrisponde a realtà che hai un animale morto nella manica? Beh, era! Era un animale, non so cosa sia Cosa è successo? E ho cominciato a sentirlo camminare Mentre tu andavi Seguendo Marco che ignaro di tutto faceva la sua strada Ho resistito fino a metà braccio Dopo di che sono fermata E ho cominciato L'avevo preso qua, alto il braccio Un poveretto dietro mi vede Quindi avrà pensato chissà cosa è successo Si è fermato Mi ha detto animal, animal È arrivato, è sceso dalla moto Ha chiacciato Che schifo Dai, dai, dai Tranquilla Non ti preoccupare, l'abbiamo eliminato E dopo quando togli la maglia magari fai una foto Assolutamente Per la famiglia dell'animale Era gigante, era una cosa così Eccolo, eccolo Chi è? In diretta l'arrivo di? Chi è che bancava? Il casico Ok? Ok?